Ma sai che invece che cosa c'è di bello? Non tanto quello che fa la Meloni, che l'abbiamo capito, forse per lei metterebbe tutti quanti sul seggiolone col bavaglino. Ok, quello che c'è di bello è che cominciano finalmente a ribellarsi i giornalisti della RAI. E questa è la cosa buona. Ribaltiamo l'ottica, non parliamo sempre di quello che fa la Meloni, di quello che fanno i suoi alleati, di Salvini, di quello che ruba. Parliamo di noi e di quello che possiamo fare noi per cambiare questa situazione. Allora sempre, l'ultima domanda.